Il primo risultato di questa finanziaria è che la proviamo senza quella cosa che si chiama esercizio provvisorio, che vuol dire far passare dei mesi prima che i soldi possano arrivare alle imprese e alle famiglie della Sardegna. Questa volta siamo stati molto veloci e quindi 9 gennaio già approvata e siamo pronti a portare i soldi dove ce n'è bisogno, nella società e nell'economia della nostra regione. Questa è la prima novità. La seconda novità è che questa è una finanziaria che oltre ad accompagnare il processo di crescita che è ripartito in Sardegna, perché finalmente l'economia sta ricominciando a muoversi, finalmente la disoccupazione, seppure molto lentamente, sta cominciando a diminuire, ma tutto questo non basta. Allora questa finanziaria accompagna questo processo, noi siamo convinti che lo renderà più rapido, più intenso, più virtuoso, più positivo. È una finanziaria importante. Abbiamo rispettato i tempi e siamo riusciti a fare una finanziaria che sicuramente aiuta lo sviluppo. Le tasse rimangono basse, ci sono nuove risorse, nuove risorse che andranno a favorire l'occupazione, a favorire lo studio, l'università, l'iscrizione e quindi guardare il lungo periodo. Ma poi risorse importanti per l'inclusione sociale, 45 milioni per il race che sta iniziando a funzionare molto bene. E poi risorse per i settori produttivi, non dimentichiamoci che ci sono 255 milioni per i bandi delle imprese, per tutte le dimensioni, e le imprese stanno rispondendo con centinaia di domande. C'è una ripresa, c'è il riscontro nel PIL, c'è il riscontro nell'occupazione che sta aumentando, nella disoccupazione che si sta riducendo. E la finanziaria la accompagna.